Ora sarà la volta del Cavaliere Italiano Lorenzo De Luca su Zoe. Bene, partito molto veloce, bene sull'Oxer, bene sul 5, viene in avanti subito internamente senza toccare la bocca sulla gabbia, bene, bene sull'Oxer, molto veloce. Bene sull'8, anche lui 4 galoppi, molto veloce, 9, bene sul 10, velocissimo, bene sull'Oxer e chiude, passa in testa 54-88, miglior tempo.